Noi, dice oggi Annone a Casal di Principe, un luogo che trasmette oggi un senso di giustizia e di libertà, una villa, un muro alto, troppo alto, un bene confiscato, 116 volti di chi non c'è più e poi rabbia, tanta rabbia. Il pensiero corre alla bellezza dell'età di chi è morto prematuramente, scrivendo la sua storia al dolore di chi è sopravvissuto. Alla saggizia di chi ha intuito prima cosa fosse il male, ha scelto il bene, la giustizia, la libertà. Tristezza e paura di poter essere uno di loro, ma anche il desiderio di avere il loro coraggio. Le cose cambiano se lotti per cambiarle. E allora io, noi, chiediamo istituzioni che ci insegnano a conoscere il mondo. Nessuno deve rimuovere la verità di ciò che è stato un mutuo di fronte alla violenza. Il nostro sia sempre un grande no. Grazie a tutti.